benvenuto benvenuto in AC69 trading, crypto trading e videoripetizioni.com benvenuto in questo canale dove facciamo analisi tecnica e analisi fondamentale del mercato cripto da tanti anni bene dopo il video bitcoin può arrivare a 20.000 dollari dove ti avevo dato i livelli 32.874 ho sbagliato di 80 dollari e nel video precedente abbiamo analizzato un po' tutti i vari indicatori e le varie possibilità al livello dei 29.000 o 30.000 dollari questo breve video ci tenevo a continuare il ragionamento con una tecnica magari per trovare il bottom, il fondo perché? Perché tutti stiamo guardando il bottom ricordati che in questo mondo non ti devi mai sentire casato, chi ti dice che ti senti casato è la cosa più sbagliata al mondo togliamo le emozioni e guardiamo che cosa ci dicono i grafici, non abbiamo la palla di vetro ma cerchiamo di leggere insieme i grafici abbiamo visto nel video precedente che ti invito a guardare, se ancora non lo hai guardato valla a cercare sul mio canale su AC69 che sta per Altcoin Investor 69 che ha una storia dietro, prima o poi te la racconterò, questo acronimo andiamo a cercare il fondo, abbiamo visto che tempo fa quando la RSI stava intorno ai 19, 20 o 19 forse avevamo trovato il fondo sul giornaliero, ma andiamo a vedere sul settimanale questo video ebbene sì, ti voglio far ragionare un po' sul settimanale e adesso ti spiego che linee ho messo la linea bianca è la media mobile esponenziale a 100 periodi, vedi, questa qua, sul settimanale quindi la media biancastra, gialla molto chiara, l'ho messa un colore abbastanza simile a quest'altra perché è sempre, vedi, questa bianca è la media mobile esponenziale a 100 periodi e questa gialla chiara è la media mobile a 100 periodi e poi sotto ho impostato questa gialla un po' più cicciotta, un po' più grande sempre sul time frame settimanale, la media mobile a 200 periodi, ok? quindi dov'è il fondo, dov'è il bottom? se puoi vedere, e andiamo sul settimanale, ok? possiamo andare a vedere i più grandi trolli, se ci fai caso, i più grandi trolli prendiamo il nostro amico Giotto, ad esempio questi del novembre 2018, ok? quando magari ti sentivi casato e compravi tutto, no, assolutamente no, magari è il caso di aspettare oppure se quando ti sentivi casato e compravi tutto, io personalmente ieri ho comprato durante il crollo non tanto, poco, come scrivevo qua nel nostro gruppo dedicato ai nostri studenti ciao Andrea, facciamo statistiche, insomma, ci confrontiamo, ok? è dedicato a tutti gli studenti dei miei corsi e trovi link in descrizione a questo video beh, dicevo io sì, ho comprato in realtà, ma solo quello che quando mi sentivo casato mi acciaccavo, mi schiacciavo le dita col martello per non comprare e quindi visto che ho aspettato parecchio, ti dico mesi, ho aspettato mesi ieri sì, io personalmente ho comprato qualcosa ho spuntato degli ottimi prezzi, non lo so, però sicuramente dal punto di vista non del trading, ma dell'analisi fondamentale ieri ho comprato Hu, Ilv, anche Lix o Luxo e altri coin, ovviamente Bitcoin non un po' ne ho comprati, ok? perché quando mi sentivo casato era il momento veramente di stare fermo non dico di vendere, ma di stare fermo benissimo vediamo però sul settimanale e tieni molto a mente questa, la media mobile a 200 periodi se puoi vedere, andiamo a vedere i crolli del passato e facciamo un po' di zoom qua, ti parlavo del 2018 possiamo vedere che innanzitutto le due medie la bianca e la bianca chiara quando si sono incrociate il prezzo ha trafitto le due medie come vedi è stato trovato il bottom, il fondo per svariate settimane se misuriamo questo periodo è da dicembre 2018 fino a, vedi, febbraio 2019 11 bar, 77 giorni circa due mesi e mezzo per due mesi e mezzo siamo stati rimbalzati qua giù in basso e quindi si era un po' persa l'attenzione tutti i vari casati della situazione erano scomparsi nessuno ne parlava quando questo era il momento di comprare e andarci giù pesante, ok? è qui che bisogna sentirsi casati un po' come dice Warren Buffett, il vecchio che è bellissimo a leggerlo ma poi a farlo è veramente difficile lui dice sii avido quando tutti hanno paura e abbi paura quando tutti sono casati no, abbi paura quando tutti sono avidi quindi qui che tutti avevano paura avevano perso l'attenzione era il momento di essere avidi ed è molto difficile è facile a dirlo, a leggerlo ma è difficile a farlo però qui come vedi abbiamo trovato supporto quindi il bottom, il fondo dove cacchio è questo fondo? sarà veramente a 20.000 dollari? non lo so, adesso lo vediamo qui abbiamo trovato supporto nel 2018 a 3.100-3.300 dollari e poi il tutto è andato su per fare un falso breakout però comunque l'ha fatto un più 300% ok? stessa cosa qua questo è stato il covid crash ovvero quando c'è stata la brutta notizia tanti interpretano i prezzi con le notizie quando invece basta che mi dai un grafico e ti dico io le notizie qui che cosa è successo qui non è successo altro che il prezzo è stato di nuovo respinto qua ok? a questo livello intorno a 10.000 dollari una o due volte al di là del covid crash come vedi comunque il prezzo ha trovato supporto di nuovo un fondo qua sulla linea gialla allora ti domanderai e questo è l'obiettivo di questo video dov'è adesso la nostra linea gialla? la premessa è che non è detto che ci arriveremo però ci interessa per capire se anche questa volta cioè tre volte su tre proviamo il fondo alla nostra linea gialla la nostra linea gialla adesso è esattamente qua intorno ai 20.000 dollari e fa un po' scopa con l'altro video che ti dicevo questo qua di sette giorni fa bitcoin crolla a 20.000 dollari ti ha votato i livelli bitcoin stava a 42.000-43.000 dollari in realtà se vai indietro nel canale da un po' che lo dico purtroppo sono notizie che nessuno si vuole sentire dire soprattutto quando tutti parlavano di 100.000 dollari ma questo è quello che ci dicevano i grafici ok? e adesso la linea gialla è intorno ai 20.000 dollari quindi bisogna vedere che cosa succede visto che in tanti parlo di 30-31.000 dollari come il livello molto probabilmente non sarà questo il livello a cui torneremo perché? perché molto probabilmente o non ci arriva per niente già ha trovato il fondo e quindi riandiamo su o molto più probabilmente ci inganna e poi potrebbe fare una cosa del genere per poi ritornare su è chiaro che questa linea man mano che passano le settimane qui stiamo su time frame settimanale come vedi tende ad andare un po' su ok? soprattutto se il prezzo diciamo scilla a questi livelli e quindi magari già da 19-20.000 dollari fra un mese un mese e mezzo inizieremo ad essere a 22-23.000 24.000 dollari ecco un livello interessante che a me personalmente piace e poi ti spiegherò anche il perché è intorno ai 24.000 dollari è sicuro Leo che Bitcoin tornerà a 24.000 dollari? no perché per ora se ci fai caso ho trovato supporto qua alla nostra linea bianca che ti ho insegnato all'inizio quindi vediamo teniamolo d'occhio non sentirti anzi forse è il caso che ti inizi a sentire gasato perché questi sono prezzi che se ci pensi avresti dato un rene a gente che avrebbe venduto una falange avresti dato qualsiasi cosa magari qua quando Bitcoin stava a 69.000 dollari e hai comprato non è che sei stupido anche io ho fatto gli stessi identici errori e magari avresti dato qualsiasi cosa per poterlo comprare a 36.000 dollari quindi è chiaro che dobbiamo fare un po' di educazione io in prima persona su noi stessi quindi vediamo che cosa succede questa candela sul settimanale è una bella candela per ora è una candela interessante tutti parlano di 31.000 potrebbe anche essere che a 31.000 non ci arriva e continua ad andare su però ecco per farti vedere come è andata nel passato rispondere alla domanda qual è il fondo Bitcoin a 20.000 dollari probabilmente se succederà una cosa del genere andiamo ancora più giù questa linea in teoria dovrebbe continuare un po' più alta ecco quindi verso i 23 24 22.000 dollari potremmo trovare il fondo da Leo da c69.trading e videoripetizioni.com ti mando un caro saluto dai un'occhiata ai link qua sotto per vedere i miei corsi e sto vedendo che stanno andando molto molto bene ti ringrazio Fabio ti ringrazio Mario ringrazio a tutti perché veramente un bel corso mi impegno tantissimo sì cerco di metterci l'anima tutti gli errori che ho fatto cerco di non farteli fare anche a te che sei dall'altra parte perché io già ci ho sbattuto i denti e soprattutto nei miei corsi è incluso anche per pochi spiccioli è incluso anche gratis il gruppo il nostro gruppo la nostra banda ACI69 che sta per altcoin investor c'è un acronimo c'è una storia dietro dove siamo più di 1400 studenti nella nostra banda e ci confrontiamo e come vedi anche qua sette giorni fa quando bitcoin stava molto più in alto avevo condiviso bitcoin crollo a 20.000 dollari è possibile facevo un'analisi tecnica che ti invito a guardare per farti un'idea pollice all'insù iscriviti al canale per non perdere i prossimi video da leo da ACI69 punto trading e videoripetizioni punto com ti mando un caro saluto ciao